Siamo qui a Milano, in Winter Nell. Siamo testando le nuove bicchette, le nuove helmette e le nuove sulle skin. I piccoli dettagli sono solo possibile analizzare qui. E' importante fare questo al principio della settimana, perché la settimana è molto lunga. Dobbiamo migliorare qualcosa, ora è il momento di fare. Se vuoi essere migliori e migliori, bisogna guardare le piccoli dettagli. E questo è il modo di fare. Grazie. Grazie.